Non mi posso neanche poggiare al titano perché sennò si muove tutto Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video di Cresionion Sigla! Subito! Sigla! Oh Ale dobbiamo fare la sigla Si ma vedi che se vuoi so fare la beatbox Vediamo Beh ragazzi oggi sono solo soletto perché tutti avevano i beep loro da fare No in realtà veramente si erano un po' tutti impegnati tutta la gang era impegnato Quindi ho detto vabbè siccome abbiamo finito i video mi metto così in solitaria In quest'angolino tra parentesi perché c'è un delirio in casa C'è questa roba qui ovunque 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 e quindi ho detto vabbè c'è quest'angolino lo prendo Mi rilasso un po' e mi bevo una bella IPA Oggi infatti proveremo la IPA del birrificio Rai River Brewing Company E ragazzi ho già visto sul sito che loro dicono cose molto semplici Molto semplice è una classic IPA inglese molto bilanciata senza fronzoli diciamo la Il luppolo la fa da padrona e la fa da padrone padrona ma lo so e praticamente sentori floreali Sentori floreali legati tutti insieme e insomma amaro dovrebbe essere abbastanza insistente Fa caldissimo ragazzi perché sto stranamente vedrete questo video quasi subito perché oggi è venerdì 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 sto registrando questo video di venerdì 28 credo che sia oggi si 28 giugno sono le 18 C'ho il sole che si sta morendo non si può stare quindi quindi ho deciso di rinfrescarmi un attimo con questa retro IPA Ok quindi inglese tradizionale molto bilanciata luppoli che la fanno da padrona sia come aroma che come amaro ok la vado ad aprire Se sentite il fruscio sono le cose lì Come al solito l'ho versata malissimo però va bene Ok in video forse la vedete un po più scura di quello che è in realtà è un giallo paierino In video si vede un leggermente più scuro di realtà è giallo paierino Schiuma bianca abbondante Allora già al naso si sentono si si sentono molto forti E per sentirli io Significa che sono veramente veramente forti perché solitamente io non ho dei sensi molto sviluppati Quindi per quanto riguarda l'olfatto e il gusto chiedo sempre aiuto più a Francesca anche la vista perché sono daltonico quindi Chiedo sempre aiuto più a Francesca e Andrea e Alessio per Allora sicuramente ha l'odore si è un odore floreale fortissimo Molto Però non riesco a distinguere Però l'odore in realtà sul sito non è che specificano cosa te lo dovresti sentire Ti dicono un generico carattere floreale, aroma floreale Io onestamente lo apprezzo quando è così perché Chi solitamente va in un pub magari specializzato Va a prendere una birra Una birra Magari è la prima volta che assaggio una birra artigianale Non è che va ad identificare singolarmente le varie le varie componenti Però diciamo che un odore floreale Un sapore floreale è facilmente distinguibile Anche per i palati e i nasi meno allenati Come il mio Allora ragazzi il floreale al gusto non si ripresenta preponderante Quindi preponderante Oggi ci stiamo volando Non si presenta preponderante come per l'olfatto Mentre aspettiamo che passa lo scuderone Non è riproposto in maniera forte come per l'olfatto al gusto Però devo dire che il corpo è un corpo medio Quindi in bocca è abbastanza denso Si sente molto la bevuta E l'amaro è un amaro che all'inizio Diciamo prende l'inizio della bevuta Prende il palato parecchio E poi si ripresenta con un finale molto prolungato Veramente spaziale Non è un amaro forte Non è che la bevi e dici Wow è veramente forte il gusto di amaro Però è un amaro che arriva pian piano al palato Appena inizi la bevuta E invece sul finale si ripropone con un leggerissimo sentore di amaro Che va pian piano affievolendosi Cioè non è una botta Cioè è un po' prolungato Sto iniziando a sudare come una bestia E il tutto comunque non ti dà la botta E poi Cioè è un continuo che accompagna tutta la bevuta Veramente interessante come IPA Non mi dispiace affatto Anzi me la finisco E direi Ovviamente non è di quelle Diciamo da Da wow Che amara Wow Che lupoli No no È sicuramente una birra Tranquilla Bevibile da chiunque Anche da chi non ha mai provato Una birra artigianale Una IPA Che magari non incontra il gusto di tutti Ehm Ci sta alla grande Da provare sicuramente Non so se effettivamente andrei alla ricerca di questa birra Anche se effettivamente non è male Nel senso che è di facile beva Non so quanto Sei e mezzo di Volumi alcolici Bene Molto 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 bene Benissimo direi Ecco qua Finiamo l'asciugata Perfetto E Quindi ripeto Non lo so se effettivamente poi la andrei a comprare Per berla tipo stabilmente Però Sicuramente è da provare Se vi capita Se non lo posso provare Se vi capita Ehm Prendetele e assaggiatela E Fatevi magari sapere cosa ne pensate Beh ragazzi Per oggi è tutto Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Condividetelo Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Oggi sono la campanella La devo fare sempre io Ehm Fateci sapere cosa ne pensate Nei commenti Se ne volete sapere di più Se volete qualche Qualche info In più Rispetto alla birra artigianale Magari qualche Gli stili Insomma fateci sapere un pochettino voi Se questa tipologia di video vi piace Perché a noi piace farla E a noi Tutta questa gente E poi mi circonda Mi piace farla In realtà E' solo una scusa per berci Un sacco di birra Un sacco Noi piace fare questa tipologia Di video Quindi fateci sapere cosa ne pensate Nei commenti E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ragazzi Non si può stare Non si può stare Troppo cazzo Beh Comunque Farli solo alla fine Non è male male La birra me la bevo tutta io Non mi devo mettere d'accordo con nessuno Faccio tutte cose in attorno Non è male E tu sei Ma Va Vabbè Ora mi gioco adesso Andre Francesca Ed addio Prendo lo stesso definitivo del canale Le dilliala Le dilliali Suc parti